perfetto ok ci siamo ok quindi è successo il fottuto panico ho scoperto tutte le camere di udino però questa è da storia quindi non c'è una valchiria dentro sarebbe il cazzo di colmo eh che cazzo che è questo? questo è Odin non riconosce il gusto di comunque e Look at that, it's the missing panel about here Odin must have stolen it, but why? He always has his reasons Might I have a look? Well, this is most unexpected Why what does it mean? I'm having the foggiest. Isn't that unexpected? Look clearly that's tear Traveling somehow perhaps magically What's that to do with the Giants? They should devote a shrine to it. I'm afraid that is none too clear What are those runes in the corner? Not runes. Symbols from different lands. They mean war, aye How do you...? This one I know too well Oh... Oh... These eyes... They are jewels Like yours Of course. No doubt signifying the gift of sight the Giants granted us. Give me a closer look Interesting Very interesting Very interesting What is that? The secret plans Concealed by tears So none could access but him And those few others the Giants trusted He's a friend of his nose I did promise I'll get you to Jotunheim What do you mean, Ed? You said we were out of options Don't you see, brother? Odin never gave up hope and neither should we He knew there was a clue in here, but we are the ones who found it These plans are for a key to some chamber tears kept hidden I don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path How do we make this key? I suggest we ask a dwarf Che cazzo di figata I think I know just the door that the key goes to So I'm in the water You remember? So Oh Forse là All'oriente Ma lì all'Egitto Un altroeste Peride Mi la butto lì Che lo chiamano Il Prince of War Perchè è il figlio De De Kratos E a quello però non si potrà sbaccare Nessun tavolino Nessun vaso Arriba il top Che cosa qua lo potevo usare? Oh no Cioè le frecce si ma il pisellino del cazzo no Cioè le frecce si ma il pisellino Ma lui però l'ha visto Ma quindi in teoria posso uscire qui? No Cioè dovrò ritorna dopo quando potrò riesplorare liberamente Anche perché la porta è qui e sono un coglione E comunque non posso Ma è sempre al contrario Che palle sta cosa Elim Alfeim Però non posso andare qua eh Posso però non devo Manca la torre del regno per accedere a questo Ah vabbè Jotunheim Vanheim Bloccato Muspele E per le prove E Niflheim Manca una runa sola E vabbè Asgard perché sarà il prossimo Molto andare Sarraband Marrowhead Marrowhead Why did you not tell us Balder is the son of Freya? He is It's shocking Every time I hear it And yet obviously I know it When I think about Balder and Freya Lemaire? Yes lad Freya How's that brother? Hey Tell me Balder's vulnerability Balder is blessed with invulnerability To all threats Physical or magical Wait What is happening? He is bewitched Not to speak of what he knows I am? I am! Oh That's it precisely I wonder how long that's been so Since she had my head at her mercy Or back when I figured out Balder's weakness I'm here Yes lad You just said you figured out Balder's weakness Did I? But Balder is blessed with invulnerability To all threats Physical or magical Enough This means there is a way If he troubles us again We will find it Ah no siamo arrivati Do l'altro di meno? Can you make it? Is it a weapon? Armor? Or likewise an instrument of war Of which I'm a master at shaping? No? Then forget it Even if I wanted to make such an insignificant Google I'm liable to chink my tools Working on something so Delicate and ladylike Then shingle it How to weld the item with scap slag Keep the layers thin Alternate the overlay Okay smart guy And where do you propose to find a lump of quality scap slag Last time I saw one I could still get rigid down south Shut your mouth Is that I had to get my hands dirty Well don't just stand there Let's do this What? You? You're fine with working on something that's not a weapon? Oh hell Why not? What? I can grow too Watch the spine Keep your wrists loose Oh you keep your wrists loose I need more heat here Coming up You gonna temper that steel longer? No need to I triple quenched it with Drago See? Oh how inventive And sanitary You clever little beaver Never too late to learn a new trick Is it? No it's not Here it is Nope Don't forget this Yes No quit your grinning It's downright unsettling It's just nice to see you together But now the rune on your brain looks different Impressive Reforging something what broke I knew it You two love each other I'll cut it out princess You're gonna get me all weak I like the new and better Don't you? We have what to do No Yes Fammi a potenziola Allora Armatura boonsto Ah ma è la Corazza di Valdi Della Foschia Eterna Spallacci di Valdi Della Nebbia Maledetta Però questi sono al 4 Che palle Invece questi sono al 7 Cioè mi sarei fatto il culo per fare sta cosa A me la sarei data nel culo Però comunque questi sono al 7 10-34 Ah aspetta 28-40 18-44 PD Poi c'è una piccola quantità di rigenerazione della vita No aspetta questa è buona Ma come cazzo le creo ste robe se non ce l'ho Brutte nel culo però Riferisco queste dove è più nudo Sono Attratto sessualmente da Kratos Ma certo Ah però questa è carina Figa Tutte queste di Valdi Aspetta ma è roba del loro due I Valdi No I Valdi è un altro tizio Leviatano Non potenziabile L'ama del Kaons Sì Ok Ma vorrei potenziare al massimo No Ah ma questa me la ricordo Questa c'è stato proprio con i vecchi Posso grampar L'inferno furioso di Musplem E il nebbigelite di Niflame Quindi so due cose Uno per le natte con l'accetta E uno per le natte con le lame Ecco che so sti due regni del cazzo E alla fine te le danno L'ultimo potenziamento Quindi non lo trovo in giro Ma lo trovo qua La leggenda originale viene profetizzata La sua morte Pd ho appena letto La leggenda di Baldur La leggenda originale viene profetizzata La sua morte E sua madre Frigg E suo padre Odino Lo rendono invulnerabile A qualsiasi cosa In modo che non possa ferirsi Però poi quindi La cosa si è avverata Perché lo scoppite mille volte No Compra Che bello Vederli insieme Ok Abilità Cambia posizione Fermata Questa comunque non l'ho capito Tranne una che non prendono in considerazione Se c'entra sborro Yes L'attacco con la lancia del caos Genera una piccola esplosione Al contatto e friccia E danni da fuoco Ah quello che lo aggrappo Fico Quando mi ritengo da reti Per caricare ulteriormente Concludendo Un fendente elementare Che implica enormi danni da fuoco In un'aria estesa Let's Yance Go Yance Go Yance Vai Con la scuola e la scuola Tu hai ritrovato per noi Grog e io Possiamo costruire Devegrathecar Dwarven armor Of legenda Solo bisogna Trevi più Ingredienti Mite Prima Scrivete Di hammer Che sono Dunno Armors Pure Legenda E i dettagli È fuzzier Che A Wulver Butthole You Expect Us To Find Parts From A Legend Oh Molso Near The Dwarf King Found Two Of Everyone Knows That But When He Looking For The Third Poof He Vanished Maybe You'll Find Some Clues At His Stronghold In Konansgard And Lookie Here A Konansgard Entry Stone It's Got Your Name On It How Fucking Strange Eh Yes Amigo Mio Stronghold Northwest Here Behind The Svartalfime Realm Tower Large Stone Structure Creepy Atmosphere You'll Know When You See Oh Que Trot Oh I Can't Wait To Get Started Everything I'd see Such Day We Was Back to Build Is A Duel But It Feels Right Especially For This I used To Build On My Own All These Years Almost Forgot How Dane Useful An Extra Pair And Here I Forgot How Much Easier It Is To Smelt Sca Slag With Someone Else Gage The Temperature Aparement C'est Bosh C'è un'altra cosa? Ora, ora, torniamo a tornare a lavoro, prima di arrivare... Sentimentale! Ok Posizioniamo un elmo, allora Sì, significa amore, qualcosa che Odin chiamò Freya dopo aver scelto, senza affezionare a prima, o che mi piace di credere, mentre le cose diventavano, diventavano una forma di manipulare la verità. Come so? Odin non chiede a Freya, una bambina di Vannir, di avere credito per nulla in Asgard, quindi tutto ciò che abbia avuto, era attribuito a Frigg. Come essere la madre di Balder? Sì, è vero! Freya era la madre di Balder all'alonga. Io mi sto per segare. Possiamo... Fare finta di no, ma è clamoroso quello che hanno appena detto. Tu dicevi Frigg e io pensavo, boh Frigg, però qua si chiama Freya. E loro mi cagano fuori. Che si chiama Freya? Ma Frigg era più tenendo... Vabbè, che figata, ma che figata! Vaffanculo! Ma quindi sto più forte? No. Questa è un altro che Gerdrifull, il maestro di armature in Valhalla. Responsabile per armiare e trainare Odin's Enheriare. Questa cosa? Questa è un'armata, come Ragnarok. Questa è la ragione che Valhalla ci ha, tu guardi. Enheriare, che chiede nel grande giallo, endolamente, faiando, faiando e faiando, e... Ah, faiando loro, scopri. Quando Ragnarok comincia, Odin lo chiede a loro servizio, per combattere a loro servizio. Gerdrifull aveva le nostre mani pieni, trainando quella cosa. God of Dio. Porca troia che figata, sto cazzo di gioco. Non sbaglio una per adesso. C'è qualcosa che non posso capire. Odin vuole per evitare Ragnarok. Ma il Serpente è già stato là e ha visto. Quindi non si è già fatto? C'è una cosa difficile, ragazzi. Odin è proprio sbagliato, a pensare che può farlo bene. C'è una scuola di Dio. Non è scritto che non può non essere scritto. Con questo, ragazzi, tu e l'Evvodio potremmo. Anche se non può evitare Ragnarok, ancora spera di sapere sufficienti dettagli per influenzare l'esercizio. Mi ricorda di più, per parlare delle regole. Sì, sì, ma lo so che... Ragnarok è inteso tipo come Apocalisse. Questo sarà il nostro miglior lavoro ancora. Solo bisogna un po' di aiuto da voi. Guardate qua. Che figata, comunque. La chiesa deve essere per quella chiesa di Thor sull'esterno, sull'esterno. Ricorda? Oh, aspetta, c'era una cesta. Ma che bello. Ah no, aspetta, devo scendere più. che è un altro drago. Ah no, aspetta. Ma è arrivato qua adesso, tipo. Si sta vedendo... Ah, quello è quel cazzo di... De stronzo di merda lì che non riuscivo a scoppiare. Eh certo. Probabilità di scheda di attivare un vantaggio che conferisce un dono della forza. Pugnetore da guerra leggerissimo. Fanno ridere o? Cioè questa è molto più sborrante. Oltre che è leggendaria. E quindi ragazzi... A domani.